Il Parco Mattei di Iesi in questi giorni ospita il Festival della Solidarietà. Cinque pomeriggi a partire dall'apertura della manifestazione di mercoledì 20 giugno ricchi di iniziative, attività e incontri che nella giornata di sabato 23 giugno si sono rivolti principalmente ai bambini. I volontari dell'associazione VIP Clown Vallesina Ollus hanno intrattenuto i più piccoli con giochi e balli. Noi facciamo parte dell'associazione che è VIP Clown Vallesina che nasce qui a Iesi nel 2010, quindi diciamo due anni fa. È un'associazione che fa clown terapia e volontariato in ospedale. Adesso abbiamo una convenzione con l'ospedale Carlo Urbani di Iesi e andiamo nei reparti di medicina. Poi abbiamo un'altra convenzione con l'ospedale civile a Iesi e andiamo a pediatria, con la casa di riposo, quella comunale, la Vittorio Emanuele II e in più abbiamo un altro servizio che adesso fortunatamente è sospeso, momentaneamente sospeso, che è Clown in Famiglia, dedicato a bambini che hanno patologie oncologiche, che stanno a casa nel periodo di non ospedalizzazione, quindi quando comunque terminano le cure di un ospedale. Abbiamo iniziato con un bambino qui nel territorio di Iesi e le dicevo che è finito fortunatamente perché il bambino adesso sta bene. I volontari dell'associazione VIP Clown Valesina Ollus hanno intrattenuto i più piccoli con giochi e balli. Il gruppo di giovani clown si è riunito ancora una volta per far divertire grandi e bambini e per portare un po' di colore e spensieratezza a chi ne ha bisogno, un'esperienza di vita importante che riempie di gioia. Sono clown ormai da 5-6 anni, quindi è gran parte dell'adolescenza e della giovinezza, quindi per me è stata una bellissima esperienza e un viaggio che comunque ho fatto alla ricerca di questo personaggio clown che poi in realtà è la riscoperta del bambino che ognuno ha in sé. Io sono da meno clown, sono due anni che sono clown. Ho fatto questa scelta perché è da tanto che andavo dietro, cercavo corsi eccetera eccetera. Sono contentissima. Ciao, sono Patacco, è un anno che sono clown e ogni volta che ci fa un servizio sono ultra felice perché mi piace moltissimo. Noi siamo nuovissimi perché due mesi praticamente e quindi niente, siamo carichi, continueremo ad esserlo e andiamo avanti così insomma.